A me capita abbastanza spesso di vedere persone che stanno passeggiando, escursionisti che fanno trekking, che stanno passeggiando e incontrano una vasca lungo il percorso e fanno bere i loro domestici o bevono loro stessi. Ma che cosa possiamo trovare sotto la superficie dell'acqua nel momento in cui ci abbeveriamo senza controllare minuziosamente il liquido che beviamo? Bisogna fare molta attenzione. L'appennino è pieno, ci sono tantissime vasche, abbeveratoi, in Liguria abbiamo i trogoli, ma bisogna stare molto attenti. Quindi che cosa abbiamo sotto la superficie dell'acqua? Andiamo a vederlo. Ed eccoci in immersione. La prima cosa che notiamo è che esiste un ambiente incredibile, nel senso che ci sono tantissime specie animali come questo tritone che è appena scappato. Qui ci troviamo tra la Val Trebbia e la Valle Scrivia, più o meno un poco oltre la Val Pentemina. Come limite teniamo più o meno la Val Pentemina, una valle davvero molto bella che confina anche con la Val Bervena. Comunque siamo in arpennino Ligure praticamente. Questi sono tritoni, cioè Ectiosaura alpestris, questo è un maschio sott'acqua. Ma se vedete a sinistra abbiamo immediatamente un nematomorfo. I nematomorfi sono vermi, ma soprattutto sono parassiti. Quindi mi raccomando, bevete voi stessi oppure fate bere i vostri domestici che stanno passeggiando con voi solo se siete muniti di una scodella o di un bicchiere o qualsiasi altro contenitore con cui potete vedere la qualità dell'acqua e potete visualizzare se vi sono elementi estranei. In molte fontane sono presenti questi parassiti. Uno di questi parassiti è diventato enormemente famoso, è diventato celebre perché ha parassitato una mantide e sono gli spinocord stellini che sono parassiti nematomorfi che per l'appunto parassitano la mantide obbligandola a cercare dell'acqua. Poi ovviamente la mantide muore e il parassita nel momento in cui la mantide si è avvicinata il più possibile all'acqua ha cercato l'acqua, il parassita lascia l'ospite. In questo caso abbiamo un nematomorfo, non è di facile classificazione e identificazione anche perché i nematomorfi sono comparsi sulla Terra molto presto. I nematomorfi hanno, alcuni dicono che sono comparsi addirittura nel cambriano inferiore, parliamo praticamente di circa 520 milioni di anni fa. Ci sono più di 200 specie, credo, a memoria, di questi nematomorfi e sono organismi, per quanto semplici in realtà, hanno forme di vita molto complesse e parassitano a seconda diverse specie di animali, ad esempio alcuni parassitano solo gli artropodi. In questa vasca noi troviamo, avete visto a sinistra in alto, anche un altro tipo di nematomorfo. In questa vasca ci sono, ripeto, i tritoni. Abbiamo osservato a lungo una femmina incinta, praticamente, in attesa dei piccoli e anche un maschio che era molto probabilmente il partner che stava nei pressi perché sapete che vi sono delle danze di corteggiamento e altre cose. Quindi mi raccomando, se incontrate una vasca, sempre un contenitore o un recipiente prima di bere.